Niente, stiamo vivendo questa situazione. Ho fatto la mia piccola transumanza con 35 pecore, la somara con cestini e l'attrezzi e mi spostavo da un posto ad un altro. La mia sorella la sera facevamo il formaggio insieme. Poi la grande passione erano le pecore. Io cercavo sempre di averle di più e pensavo quando ero bambino se avessi 100 pecore. Quando ne avute 300 per me è stata la fine, perché sono stato mazzagrato da quest'animale. Ma io non do la colpa al lupo, do la colpa alla politica, alla tecnica di come questo animale viene protetto. Perché è giusto che il lupo c'era e deve restare in eterno, ma dovevano essere fatte le selezioni dei territori. Non si poteva tenere il lupo dove era il regno della pastorizia. In Italia c'è 100 province, ne bastava una di averla dedicata alla pastorizia, dove la pastorizia è l'asse portante di questo territorio. I cereali costano più niente, le vaccine, gli animali. L'unica cosa era rimasta le pecore, anche per tenere vivo il territorio, per tenere vivo l'ambiente. Era anche per tenere vivo legata alla gente. Quando si parla di ruralità, la ruralità è la gente, l'uomo sul territorio, gli animali, il fuoco acceso. La mattina quando noi ci si svegliava i camini fumavano. Oggi è tutto freddo, si è raffreddato tutto.